e con queste note si chiude il rondò conclusivo dell'ultimo quartetto l'opera 16 in trascrizione per trio d'arche e pianoforte che chiude l'integrale dei quartetti di beethoven registrati qui in questa fantastica cornice dell'auditorium stereo molo della rsi in coproduzione con dynamic questa seconda registrazione è stata eseguita grazie al fantastico contributo dell'ale ensemble il maestro andrea rognoni al violino il maestro stefano marcocchi alla viola il maestro marco frezzato al violoncello questo disco contiene una serie di trascrizioni e così come il primo disco la prima uscita dell'integrale dei quartetti di beethoven di ang beethoven ha una enorme continuità con la tradizione mozzartiana molto probabilmente beethoven ha concepito la trascrizione del quintetto per fiati e pianoforte opera 16 in trascrizione per quartetto d'archi con pianoforte sulla scorta dell'esempio mozzartiano che circolava in quegli anni a vienna e che è presente all'interno di questa seconda uscita discografica grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.